ho visto non c'è una pistola 2125 devo scappare devo scappare tanto questo evento ci da toppi ce l'ha tripli tripli e se non riesce ci dà comunque i soldi e lascia il depositario e lascia allora oh oh e clicca e oh oh va oh 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 Grazie a tutti. 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 Patrik su. Grazie a tutti. Oh... Oh... meccanico... meccanico... non rispondimi... oh... 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 no... 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 bello... 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 do... 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 dai... 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 ... Vabbè... allora il nome della macchina cromata eh va bene non posso ma quanto è l'aereo di qua? si, l'aereo si e il B45 è più veloce dove me lo metti? ci vuole l'ombretilineo lungo? dove me lo metti? oppure prendo il tuo? eh ma ingrandisce la macchina perchè mi ha dato 4 mila? ma che attività? ma che attività? ma io l'attività l'ho fatta come dove me l'ha messo? non me l'ha chiamato ahhh forse ho capito lo sai perchè mi ha dato 4 mila? forse c'è un motivo perchè non mi ha consegnato l'aereo che costava 4 mila? eh no zè no non posso vedi veicoli non lo posso più chiamare se mi guarda che mi muci eeeh 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 allora mi chiedo qualche cosa eeeh eeeh allora mi chiedo qualcosa eeeh eeeh allora mi chiedo qualcosa meccanico aspetta eeeh eeeh niente eeeh 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 il mio appartamento e per la mia auto eeeh cromata Vabbè no, è una delle stante con la macchina super potente. Vabbè allora va bene che è la stante. No, e vai direttamente nel menù. Allora guarda, devi togliere la mezza. Dopo devi andare su seppi. Ora andiamo a fare questa bella garetta. Lungo 120. Questa è pena. Vabbè io voglio sapere l'811. No, ma puoi usare quella tua? Sì, la posso usare. E vabbè la prossima garetta va all'811. Allora c'è frango 105. 120. Noi siamo frango 105. Ora entra frango 95. I più scapi sono 38. 81 e 95. Questo ci supera a tutti. Quella si può comprare quella tutta, ce l'abbiamo. E dopo? Rango 61. Quello? Si ce l'ho. Si ce l'ho. Si chiama tutta racing sportiva limone. Si entra va bene. Entra, entra. Però se questo qui non entra fa bene tempo agli altri. E fa... Oh, ecco qua che è entrata. Sette, sì. Sette. E su sette c'è uno che avrà un'auto mai visto. E quale è? Nei dovrini? La tua? Si. S80 e VF. Allora. La macchina ha toccato per vincere la restante. Inveco. Ah no, no, no. Ci sono un posto perché... Guarda... Non ci sono quelle personali. Solo a faria. E noi sportive. Di tuta. Questa è bella. Aspetta va bene anche per pregarti Formula 1. Questa è una macchina. Questa è una macchina. E' potenziata questa o no? Un po, un po. Ah, neanche potenziata? Si. A livello... Però potete prendere il 811 qua? No. Ah, guarda, questo è il snubbo. Ah, quella... Ah, quella... Ah, quella... Ah, quella più vittoria. Cos'è quell'auto? Eh no, è lenta. Io ho preso questa per vincere. Ma non è lenta. Ma non è lenta che c'è possibile. Ma non è lenta che c'è possibile. È lenta che c'è possibile. Invece guarda. eh lo sapevo si è girato si è girato grazie che casino oh ti spegniamo espandi bye bye oh ti spegniamo No, 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 no. No, 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 no. cosa vuoi? la cosa vuoi? la cosa vuoi? è un po' No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tu papà hai fatto le papà più grande ma è il roraggio è il roraggio rorissimo cioè da principianti è il roraggio è il roraggio è il roraggio stai sbagliando stai sbagliando sai che stai prendendo hai preso tutto che vabbè vabbè boh come cavolo me l'hai lasciata la macchina cavolo è il roraggio è il roraggio è il secondo tipo basta hai perso ho perso ho perso basta punto basta non mi recupero più manco secondo basta 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 perso perso non 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 a presto un mare che c'è uscito a me un ragazzo ho finalmente fatto la gava giusto lo hai messo un frutto a poi sei tu un lost vedi quei personalizzati si distruggi l'ultimo no no hai messo blocco a vispo no nessuno andiamo uffa vai conferma impostazioni e vai su gioco fammi parlare a me no non sbaglio va bene e va bene se non arrivi primo e va bene e va bene l'auto senza buono e questa m si deve spaventare un po' quello ha fatto prima la gara con noi scommetti metti la 500 mille 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 perdiamo tutto perché non piazzata perché non piazzata non piazzata ristola piazzata ok vabbè ma aspetta aspetta bruciato, bruciacchiato, bruciacchiato di pelle aspetta tanto sto un primo più tre secondi perfetto ora l'aspetta l'aspetta benissimo ah lui non sa fare un colpa l'aspetta ma è quasi contattato l'aspetta attraverso l'aspetta l'aspetta il tempo c'è la tua c'è la sua la sua assistenza quanti è che il suo bruci eh no lui aveva due secondi quindi un secondo ho sbagliato è stato sbagliato il posto di scala il posto di scala e guarda la giocatina il posto di scala il posto di scala e lui il posto di scala e lui e lui a mille si è vincitato no ci dà mille si è vinciato si è più mille ah più mille perché ci sono i versari è più mille perché noi abbiamo anche scommetri ecco a spirale provato a spirale e lì lo faccio tutto è un paese un attimo come si gara mi tiene una scia un paese di grande è un paese di grande ma il giro è perfetto ma questo è un paese di grande è un paese di grande oh qua 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 Vittoria, vittoria Vittoria, Vittoria, Vittoria Vittoria, Vittoria Vittoria, Vittoria Vittoria, Vittoria Vittoria, Vittoria Vittoria, Vittoria 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 Vittoria